Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play E' uscita la 1.7.1 The Change the World Update Almeno così si chiama Ok, allora Ok, nello scorso episodio ci siamo costruiti questa specie di piattaforma Ok, usiamo il piccone di legno Ho notato che adesso l'inquadratura del blocco Scusate, gente che rompe su Facebook Allora, stavo dicendo Non lo so, è uscita la 1.7 Quindi hanno aggiunto parecchi nuovi biomi Non so se si sente il suono L'ho abbassato Vabbè, parecchi Circa 30 nuovi biomi con tutte le varianti Di ciascun bioma E parecchie altre cose Hanno... Hanno... Quando si mette la mappa nel porto oggetti Adesso appare più grande Quella andiamo a vedere magari alla fine del video Ok, allora, prendiamo Dobbiamo anche mangiare Altrimenti rischiamo di morire Ok, sì Dovrebbero esserci nuovi fiori Sì, eccoli lì Li prendo così Magari poi se non li troviamo più Almeno abbiamo questi Ok, questi bastano Allora Possono essere ripiantati? Sì Vediamo Andiamo di qua Magari esploriamo qualche dungeon oggi Mi dimentico sempre di Mettere in normale Ok Hanno aggiunto nuovi pesci Ovviamente non possiamo ancora pescare Essendo solo al secondo episodio Ma lo faremo molto presto Appena troviamo un posto dove costruire Questo qui non mi piace Qui sembra esserci una... Una giungla Sì No, vabbè Case nella giungla le faremo Però saranno case secondarie Come posso spiegare Non saranno la base principale Ecco Lì c'è uno zombie che brucia Sono diventati intelligenti adesso No No Ti preferivo stupido Non ho una spada No Che cosa ci fa una strega? No Non voglio morire No Non voglio morire Ma che tiepolo Ah giusto Adesso le strighe possono spawnare anche Anche a caso No Guarda un po' se devo sprecare del legno Per scappare Vabbè prendo subito un po' di terra Non ce l'ho Ah del pietrisco Va bene Quella che abbiamo preso dovrebbe eventualmente farci scappare Ho provato anche a prendere un po' di Un po' di carbone Un po' di piccone stavo dicendo Un po' di carbone con il piccone di legno Ovviamente non me l'ha droppato Anche se dovrebbe Non so perché Dovrebbe Perché non l'ha droppato L'ha droppato Ah l'ha droppato Ma che cazzo Succede Ok qui Oh si mi piace La strega non c'è più Un po' sospetto Vabbè io scendo Non mi importa Ehm vabbè No 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 E ovviamente io No No la strega Ovviamente io la terra la tengo nell'inventario No Non voglio morire Vabbè il velino so che Chi è adesso Il velino so che non fa mai morire Porta All'ultimo cuore Ma Fa rimanere fino all'ultima metà di cuore Ma non fa mai morire Ragazzi allora Prima dobbiamo mangiare Meno male abbiamo il melone Ok allora Ci costruiamo subito Una spada Anche se di pietra non fa niente Ah e con Con i nuovi Snapshot Snapshot Come si dice Hanno aggiunto Le nuove piantine Di alberelli C'è la caccia E dai La caccia E quindi anche nuove legne Nuovi tronchi Nuove scale Di legno Parecchie nuove cose Sento rumori Di scheletri Non posso distinguerli bene Perché sto con un volume Al minimo Funghi I funghi Me li prendo Ferro Oh Ciao Ciao Bravo signore Dove ho messo la terra Potrebbe esplodere solo per me Sì No Non mi dire che va a fare il giro No No Non si poteva fare il giro Non credo Ho paura Ho paura No Non poteva Oh Eccolo Scoppia Perfetto Scendiamo Ma non era lui Ce n'è un altro Vuol dire Va bene Prima di tutto Prendiamo il ferro Che ci serve Mamma mia Aspiro di non morire Perché mi sono avventurato così presto Nelle caverne A me non potevo farlo infacile No Ormai ho messo la normale E devo giocare in normale È una sfida ormai Che carbone ce ne abbiamo già abbastanza Prendiamo soprattutto ferro Oh chi è Oh merda Avvisa zombie E non mi far essere volgare Ok Solo ferro Non devo essere attratto da carbone Ecco perché non ricrescono i cuori Mi dimentico sempre di mangiare Ferro Mi dà un po' fastidio questo fatto Che l'inquadratura del blocco È più ricalcata Più Nera Almeno è una mia impressione Forse è solo una mia impressione Non lo so ma non credo Ragazzi quando sto In caverna Magari ditemi Se non vedo qualche minerali Perché io sono uno solo Voi siete molti In molti Che vedete il video Quindi È ovvio che potrebbe sfuggirmi qualcosa Ovviamente Non ora perché Queste sono solo Caverne di passaggio Diciamo Infatti ora Voglio andarmene Perché ho solo 5 torce Ho già fame Ma che Sembra aumentata la difficoltà del normale Ripeto quello che ho detto Nello scorso video Magari qualcuno se l'è perso Nello scorso episodio Nel primo Youtube Sta cambiando Quindi Se volete ricevere Aggiornamenti Cose varie Su tutti i vostri canali Non sul mio Parlo in generale Sui canali a cui voi siete iscritti Sento un ragno Sembra stia di qui Spero non sia uno spawner Va bene Tutti i canali a cui voi siete iscritti Se volete continuare a ricevere aggiornamenti su di essi Dovete Dovete essere coinvolti nel video Nel senso Che dovete mettere Mi piace O anche non mi piace Magari se mettete il non mi piace Anche a un mio video E mi raccomando Fatelo Perché Mi aiuta molto Quando mettete Non mi piace Scrivete il perché Sono arrivato al punto di prima Oh Chi è? Oh perda Ma che c... No 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 Dove 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 Ragazzi Ritorno lì All'istante 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ecco i nuovi alberi. Dovrebbero dropparceli i nuovi tronchi, vedete? Le particelle sembrano di un colore diverso rispetto a quello del tronco. Ah no, ecco, l'interno è uguale. Bello, sembra il legno di quello delle mod. Sì, sembra proprio quello delle mod. Vabbè, mi crafto le cose principali, velocizzo il video anche qui. Grazie a tutti. Ok, ho craftato le cose principali. Un'ascia ha un piccone. Prendiamo anche due o tre pezzi di pietrisco. Tre, quattro, cinque, sei, quello che è. Giusto per farci le altre cose. Ragazzi, volevo farvi una domanda che mi raccomando rispondete nei commenti per il fatto che vi ho detto prima, quello del coinvolgimento. Allora, volete che costruisca una casa nella savana, oppure proprio tipo ad arco qui, vedete? Tipo sospesa tra il deserto e la savana. Oppure che cerchi un nuovo posto, un nuovo bioma? Rispondete nei commenti. Mettete mi piace, non mi piace, quello che volete. E vabbè, per questo video, episodio, è tutto. Io scavo, vado un po' in miniera, prendo le cose per non annoiarvi adesso. Vabbè, ciao a tutti.